Ma tu ti consideri un artista, perché bisognerebbe definirti artista? Eh, boh, non saprei dirtelo. Perché è il mio mestiere, alla fine è questa la definizione. Siamo con Luca Melch in Piazza della Cernaia per il giovedì della Maddalena, ma che cosa fai tu questa sera? Questa sera farò un live audio-video proiettato sul palazzo, un set di animazioni coordinate con la musica. È un'iniziativa artistica che parte da te? Sì, sì, parte da me, ho parlato con la cooperativa della Maddalena, abbiamo deciso di fare la prima questa sera. Il quartiere ha un sacco di belli spazi, alcuni sono già conosciuti, alcuni un po' meno, e negli anni comunque le cose stanno migliorando parecchio, con tante iniziative, l'arte fa parte di una di queste sicuramente. Questo qua lo faccio anche giovedì prossimo, quindi due giovedì di fila qua, se non si muore dal caldo, se non moriamo tutti dal caldo, una roba pazzesca. E poi continuano, riprendono a settembre i giovedì della Maddalena. Ci vediamo giovedì prossimo.